Poracci bentornati o benvenuti sul canale. La 3D All Stars, uno dei videogiochi più discussi dell'anno su Nintendo Switch, non smette di far parlare di sé. La raccolta infatti ha infranto diversi record di vendita nel suo primo mese di commercializzazione, ma nonostante questo la cura di Nintendo riposta nell'operazione ha fatto storcere il naso a gran parte della community e non sono, quindi mancate, anche delle pesanti critiche. La sensazione è che il progetto sia stato realizzato in modo approssimativo, con tre riproposizioni che avrebbero meritato sicuramente maggior cura, visto soprattutto l'importanza storica che riveste una collection del genere. Nintendo ha però annunciato che il 17 novembre arriverà la prima patch gratuita, che andrà a correggere un aspetto fondamentale dell'esperienza. Prima di discutere bene su questo aggiornamento e se magari può rappresentare l'inizio di un trend positivo, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Il 17 novembre, a ridosso della next gen e dell'arrivo di Aerial Warriors, anche la 3D All-Stars avrà il suo momento di gloria. Come annunciato su Twitter, Nintendo renderà disponibile il primo aggiornamento gratuito per la collection, un update che andrà ad aggiungere delle nuove opzioni a mio avviso fondamentali. La nuova versione renderà disponibili dei menu dove sarà possibile personalizzare gli assi delle telecamere ed eventualmente invertirne i controlli. La buona notizia è che sarà possibile regolare questi parametri indipendentemente per ogni gioco, che presenterà delle opzioni specifiche per ogni telecamera virtuale. Sembra un aggiornamento da poco, ma in realtà non lo è affatto. Ho sempre trovato assurdo, ad esempio, che Nintendo avesse invertito gli assi della telecamera di Sunshine senza lasciare la possibilità al giocatore di scegliere se tenere questa nuova impostazione oppure ritornare all'originale. Un cambio subdolo, quasi impercettibile, eppure che andava a modificare radicalmente l'esperienza di gioco per chi ricordava ancora con precisione l'avventura su Gamecube. Era paradossale anche il fatto che nonostante la cura riposta nell'adattare nel migliore dei modi possibili il sistema di puntamento del Wiimote a dei controlli tradizionali su Galaxy, Nintendo si fosse dimenticata di una feature così basilare, in un'era dove le opzioni di accessibilità sono diventate uno standard delle grandi produzioni e non solo, fa piangere il cuore vedere una tale assenza su un titolo di punta del catalogo Nintendo. Difficile dire se si sia trattata di negligenza o di inciampi produttivi dettati dalla difficile situazione in cui ci troviamo tutti quanti, ma se non altro Nintendo sembra ascoltare le lamentele della community e questa patch potrebbe rappresentare un piccolo primo passo verso un supporto continuo, un'ottimizzazione dell'emulazione che andrà a perfezionare i tre giochi da qui fino al 31 marzo. Fossi in voi non mi aspetterei nulla di radicale, c'è già chi vede la conferma di un Galaxy 2 aggiunto tramite un update o dei miglioramenti netti nell'emulazione di Super Mario 64, magari con l'implementazione dei 16 noni e i 60 frame al secondo. Secondo me si tratta di ipotesi abbastanza irrealistiche e per quanto mi auguri che questa prima patch sia solo la prima di una nutrita serie, credo che futuri update non stravolgeranno radicalmente i giochi ma ne andranno semplicemente a limare i difetti più palesi. Si tratta pur sempre di una release a tempo limitato e non credo proprio che Nintendo abbia voglia di investire risorse su un prodotto che vende tantissimo già in questa sua forma, soprattutto se poi avrà reale intenzione di ritirarlo dal mercato a partire dal 1 aprile 2021, una prospettiva che lascia ancora un grandissimo punto interrogativo sul futuro della 3D All Stars e sulla riproposizione di grandi classici su Nintendo Switch. Insomma, per quanto si tratti di miglioramenti che probabilmente sarebbero dovuti essere presenti sin dall'inizio, fa piacere vedere che Nintendo si stia impegnando il minimo necessario per rendere giustizia a questi 3 capolavori senza tempo. Secondo voi, Poracci, questo è l'inizio di un supporto continuo che porterà grandi cambiamenti in futuro? Oppure dovremmo accontentarci di piccoli aggiustamenti e bug fix? Come al solito, vi aspettano i commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi aggiornamenti. Io sono il Poro3D, Michele Camera, ciao! Ciao!